E' stato finanziato alla S.A.R.D. di Cosenza, dell'azienda sanitaria provinciale, in partenariato con il Centro di Solidarietà del Delfino, dal Dipartimento Politica Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il progetto Prima di Tutto, che mira alla identificazione precoce delle condizioni di vulnerabilità e dell'uso occasionale di sostanze con la finalità di ridurre i tempi di accesso alle cure. Tre le azioni di sensibilizzazione che saranno attivate. Prima di tutto ha delle finalità molto importanti che si sviluppano su alcune strategie precise. La prima è praticamente una ricerca di azione con gli interventi di prevenzione scolastica. Quindi al primo posto c'è sicuramente il discorso delle scuole, quindi cercando di coinvolgere il maggior numero possibile di studenti, andando proprio a cambiare questi stili di vita, a fare dei discorsi di prevenzione nell'ottica delle dipendenze. Altre due traiettorie sono l'animazione di strada, quindi andremo nei luori della movida come facciamo spesso, a incontrare i giovani e i meno giovani per spiegare quello che vogliamo fare, e poi lo sportello di counseling, che riteniamo sia una cosa molto importante per ricevere in qualsiasi momento più persone possibili, ma il vero motivo di questo progetto è l'azione precoce. L'idea di avviare questa attività risiede nel fatto che oramai l'uso ricreativo iniziale delle sostanze diventa sempre più precoce, attestandosi addirittura intorno ai 13-14 anni, e senza per questo produrre il giusto stigma torna ad una problematica che comporta invece in primis gravi conseguenze per la salute psicofisica del giovane. C'è un tale numero di sostanze che adesso si fa anche difficoltà ad andare dietro, perché non abbiamo finito di parlare del fentanyl ed è uscita la cocaina rosa, quindi poi ci sono tutto insieme, un insieme di sostanze.